Continuo la mia giornata particolare, nel senso che comunque sia il bosco non tradisce mai, sto facendo dei luoghi facili, accessibili, puliti, e quelli inaccessibili non hanno dato niente. Guardate qui, allora, questo, e poco più in alto ce n'è un altro, abbiamo questo, e sicuramente è molto bello. Come vedete, molto bello, ci alziamo di poco, qui ne abbiamo un altro, ancora più bello, guardate qua. Lasciamo qui la signorina che lo abita. Ci guardiamo intorno se ce ne fossero altri, sono venuto qui, ne ho già trovati su questo pezzettino qua, diversi, comunque, bei funghi, considerando che ho fatto un'ora e mezza senza trovare niente, poi ho iniziato a fare degli incontri, diciamo, interessanti.